Nicole ha un barboncino di nome Puff, un cane dal comportamento davvero insolito. Infatti ha l'abitudine di chiudersi nel bagno e poi bussare alla porta affinché qualcuno non gli apra. Oh no Puff, un'altra volta no. Un cane veramente singolare, non trovate? Anche se ormai sei grande Sansone, non vuol dire che puoi guidare. Se non te ne stai buono oggi niente ossa al mercato. Ok, ok, ok. Ce l'abbiamo fatta a Grisby, una rapina perfetta. Oh no, ho lasciato le chiavi dell'auto nel cruscotto. Che vuoi che succeda, c'è Sansone che sorveglia. Su, prendiamo in prestito questo catorcio, hanno anche lasciato le chiavi. Forza, portiamo il malloppo nel nostro rizzo. Ehi, ma guarda la strada, no? Non posso! C'è un dinosauro sul sedile posteriore! Un dino che? Avvistata l'auto dei rapinatori, al volante c'è Sansone. Sei un gran pilota, amico, abbiamo seminato i piedi piatti. Andiamo, Grisby, ora dirigiti al nostro rifugio. Presto, entriamo. Chiudi fuori quel bastardo. Bene, sintonizziamoci sulla lunghezza d'onda della polizia per sentire cosa stanno facendo. Attenzione a tutte le auto, i rapinatori in fuga sono stati identificati. Si tratta dei fratelli Glug, Jake e Grisby. Prendetevi vivi e recuperate l'aria furtiva. Qui non ci scoveranno mai. Il bottino è ormai nostro. Quel bastardo si sta fregando il nostro malloppo. Inseguiamolo. Accidenti, ma dove se ne è andato? Accidenti, ci è chiuso fuori. Auto 31, rispondete. Oh, povero Sansone. Mi sembra quasi di sentirlo abbaiare in questo momento. Ma questa è la voce di Sansone. Il vostro cane sa usare la radio. Allora forse può dirci dove si trova. Ci provo io. Sansone, da dove stai chiamando? Ti sembra questo il momento di fare l'imitazione di un lupo, stupido che... Lupo, ma certo si riferisce la capanna del dente di lupo. Quello è il nascondiglio. Stiamo arrivando, Sansone. Posa l'osso, bastardo. Presto, così arriveremo già prima di lui. È bello. Ora non dobbiamo far altro che fregare. Il nostro denaro. Coraggio, Grisby. Eccomi, arrivo. Jack, c'è un leone. Lascia stare il bottino. Tagliamo la corda. Strano, un leone che abbaia. No, sciocco. È sempre quel cane. Fai presto. Ci libereremo di lui una volta per tutte. Lo sfido a uscire di qui. Quello stupido cane. Vorrei vedere la sua espressione in questo momento. L'ho preso, Jack. Aiutami a tirarlo. Presto, forza. Sì, siamo noi che ti abbiamo preso, non tu. La giacca. Guardate, ecco laggiù, Sansone. Oh, povero cucciolo, chissà quante ne hai passate. Poveri rapinatori, vorrei dire. Congratulazioni, Sansone. Ti sei meritato una bella ricompensa. Una medaglia al valore. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.